Musica Giornate di apprezzione per tanti amici aquilani che il maresciallo Paolo Russo aveva ancora in città. Invece poi, la tragica notizia. Il corpo del carabiniero originario di Ocre, comune dell'Aquilano, in servizio da tanti anni al settimo reggimento di Laives, è stato trovato senza vita. Il 35enne Aquilano vive ormai da anni a Bolzano e, secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, sarebbe precipitato per decine di metri in un borrone. I familiari di Paolo Russo avevano lanciato subito l'allarme nella giornata di domenica, non vedendolo rientrare a casa. L'uomo era uscito per un'escursione ed aveva lasciato l'auto nei pressi del rifugio Gassar per giungere a piedi sino al rifugio Montevillandro, dove hanno ritrovato anche la sua firma nel registro presenza. Non è mai arrivato, dove gli amici lo attendevano, per una partita di calcetto. Da quel momento nessuna notizia e due giorni di ricerche serrate sino al ritrovamento del corpo ormai senza vita. Nell'area si sono recati il soccorso alpino e l'Alperven di Sarentino e Bressanone, assieme ai vigili del fuoco volontari di Villandro. Paolo a breve, ad ottobre, sarebbe diventato papà, una gioia immensa per lui e la sua compagna, una trentenne di Bolzano. Un'altra vita spezzata, giovane, sulle montagne, una persona splendida, raccontano ora gli amici, sempre sorridente e pieno di passioni. Ad Ocre, Paolo Russo, ancora i genitori e i due fratelli, che sono stati avvertiti della tragica scomparsa. Il maresciallo aveva moltissimo il calcio, una passione che ha sempre coltivato, tanto che pochi mesi fa è stato protagonista sui campi dello Sport City di Via Maso della Pieve nel torneo over 35 con la squadra del settimo reggimento. L'Aquila Calcio, dopo i quattro avvisi di garanzia di ieri, si difende attraverso una nota ufficiale. La società chiarisce che i fatti cui fa riferimento il citato provvedimento riguardano esclusivamente la società L'Aquila Calcio 1927 e i relativi debiti fiscali. È opportuno specificare che non si tratta di un'ipotesi di evasione fiscale, in quanto l'importo risulta essere stato tempestivamente dichiarato con la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità, avendo successivamente l'Agenzia delle Entrate concesso alla società una rateizzazione trimestrale, rispetto alla quale il lieve ritardo nel pagamento di una sola rata è già stato sanato nelle scorse settimane e peraltro nei termini consentiti dalla legge e previsti dal piano di rientro. Infatti, come già in precedenza chiarito, si legge ancora nella nota, la regolarità fiscale è condizione per il rinnovo dell'affiliazione da parte della FIGC. Una volta che sarà terminata la rateizzazione con il pagamento dell'ultima rata, il sequestro sarà revocato ed il procedimento si estinguerà. Stando a quanto dichiarato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, gli amministratori pro tempore finiti sotto indagine avrebbero coscientemente omesso il versamento dell'IVA per privilegiare il pagamento dei dipendenti e della gestione sportiva. La questione riguarda l'omesso pagamento dell'IVA che ha portato ad un sequestro di oltre 300.000 euro. A subire i sequestri per l'equivalente della somma dovuta al fisco, quattro persone all'epoca dei fatti nel Consiglio di amministrazione del sudalizio, che sono finite sotto inchiesta. Corrado Chiodi, attualmente presidente dell'Aquila Calcio, Massimo Mancini, vicepresidente, Fabio Aureli, attualmente direttore generale all'epoca dei fatti, amministratore delegato, e Antonio Ranucci, attualmente amministratore unico. Oltre 3 milioni di euro disponibili dal 2011 per impianti sportivi e ad uso sociale. Fondi per il post-sisma aquilano, che denuncia il consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, ancora non vengono spesi. Una questione anche personale per De Matteis, visto che la legge regionale porta la sua firma ai tempi di quando era vicepresidente vicario del Consiglio regionale. La legge destinava all'Aquila complessivamente 4,4 milioni di euro. Ne sono stati utilizzati solo 1,4 milioni per il completamento dello stadio Acquasanta, inaugurato pochi giorni fa. Fermi, invece, 400 mila euro destinati ad una foresteria a servizio degli impianti sportivi del Centico Lella, 564 mila euro per lavori di ripristino del palasporte di Biale Ovidio, 1,7 milioni di euro per due strutture polifunzionali nei progetti case di Paganica e di Bazzano, 200 mila euro per case famiglia e attività di promozione sportiva. Una vergogna, tuona De Matteis, che minaccia di andare alla Corte dei Conti e rivela la dirigente comunale Enrica De Paolis ha proposto di utilizzare questi fondi per altri progetti subito cantierabili, come ad esempio la realizzazione del palasporto giapponese del Centico Lella, che procede al rilento per mancanza di fondi. Ma la giunta comunale, denuncia De Matteis, non ha dato ancora risposte. Si tratta di risorse finanziarie stanziate dalla Regione su una legge presentata dal sottoscritto, da me nel 2011, stanziava ben 4 milioni e 4 di risorse finanziarie destinate al Comune dell'Aula per una serie di interventi. Di questi interventi programmati l'unico ad oggi realizzato è il completamento dello stadio di Acquasanta, che questa amministrazione ha potuto completare grazie appunto a quelle risorse finanziarie per 1 milione e 700 mila euro. Naturalmente non lo hanno mai ricordato perché ovviamente non gli faceva comodo. Mi aspetto anche che ci sia una chiara voce da parte del Comune di Cialente, che naturalmente sa benissimo che sono queste risorse finanziarie bloccate, e mi adopererò in due sedi, una alla Corte dei Conti per verificare se esiste un danno prodotto dal punto di vista finanziario dell'erario, e in sede regionale, perché non è possibile che una città che riceve milioni di euro per interventi di questa portata non abbia un'amministrazione che abbia a cuore la necessità di utilizzarli nel più breve tempo possibile su cose utili e realizzabili.